Il contratto Qualcuno aveva mormorato, ma io perciò ho preferito parlare Che noi eravamo litigati? No, che addirittura voi volevate farla Convincere i condomini a cacciarla via Di mandarla via e chiamarla Ce l'hanno mandato? No, dicci quanto è? 749 bs E vedi quanto abbiamo scritto? Il contratto è 800 euro Questo è tutto Settimana scorsa camminavano dei topi dal marciapiede No, onestamente, insomma Signora, pensate che a Napoli teniamo sette soccoli a testa Facetevi condurre Eh, vedi quanto la soccoli ci stanno? E poi facciate Non capite perché poi morono sempre i condomini buoni E i fattenti i condomini non morono male